Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi sono con una reaction su Genso, Gigi Gamer, parte 2 Allora, Genso me l'avete chiesto in tantissimi Ne avevo già parlato in un altro video Però non avevo mai fatto una reaction Ad una sua canzone E di conseguenza oggi sono qui a parte La mia personal opinione su Genso è che ovviamente Non è un rapper, diciamo, di prima scelta Se si può dire così Però comunque ha degli spunti carini Fa delle canzoni, cioè E' partito con delle canzoni Diciamo parlando di youtuber Un po' sfottendoli, un po' per parodizzare Lo youtuber, ma a volte lo ha fatto Più pesantemente, a volte meno pesantemente Fino ad arrivare poi a postare un pezzo Con marmo, insomma, quindi era un pezzo Abbastanza serio, che mi è piaciuto Tra l'altro. Vediamo un po' come è questo Genso In Ciccio Gamer, parte 2 Partiamo Che suono? Che suono? Che suono? Che suono? E' questo genso Che suono? Che suono? Mi sono perso Io non mi sono perso E' questo genso Ricordatevi Genso Non lo fermate Come Ciccio Gamer Allora, cosa dire sul pezzo? Allora, il pezzo mi ha fatto fare qualche risatina Cioè, devo dire la verità, mi ha fatto sorridere più e più volte L'ho preferito in Ciccio Gamer Part 1 Perché diciamo anche con la novità che aveva introdotto con Ciccio Gamer Mi era presa anche meglio Qui è andato un pochino più pesante, secondo me Tra virgolette è andato un pochino, non dico fuori dal vaso Però, boh, non mi è piaciuta tantissimo E neanche la melodia, quindi tanto Non è la qualità La qualità non è eccelsa Però, vabbè, cioè si fa sentire per carità Però comunque sia Mi è piaciuta un sacco l'ecitazione che ha fatto ai suoi video Mi hanno fatto veramente ridere Cioè, sorridere Però, ho preferito in Ciccio Gamer Part 1 In altre canzoni I canzoncini e così L'ho preferito in altre Sinceramente qui l'ho vista un po' troppo L'ho vista un po' troppo spinta come cosa Però, comunque sia Alla fine Fa il suo lavoro Si è creata la sua fanbase Ha fatto bene Ha fatto un ottimo lavoro di marketing E comunque sia Bella per il fratellino Genzo Niente, ragazzi Ditemi cosa ne pensate voi su Genzo E la canzone, appunto, Ciccio Gamer Part 2 Che poi, vabbè, io leggo Ciccio Gamer Ma in realtà sarebbe Ciccio Gamer Ciccio Gamer E... Ditemi cosa ne pensate di Genzo qua sotto Ditemi cosa ne pensate Delle vicende successe Le citazioni comunque ci stanno Mi hanno fatto anche sorridere Come hai detto prima Niente, ditemi la vostra Vi invito a lasciare un like Passare dai miei cazzo di social E niente, bella raga Ci si vedete al prossimo video Yo Grazie 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 a tutti.